Musica Serena, vengo da Cava, ho 29 anni, no 29 ma che mi sto scordando, 28 Il nuovo cappello di Alviero Martini, trendy, è molto comodo è comodissimo perché lo si può utilizzare anche messo tra la cinta come la nostra donna avventura solamente per donne di prima classe Se vuoi provare ad essere bella e alla moda come la nostra donna avventura acquista e indossa il cappello Alviero Martini prima classe è bello, elegante, chic, alla moda ed è il cappello che accompagna le donne avventura in tutte le loro spedizioni Musica Innanzitutto la stampa ricorda il viaggio, una donna avventura, cartine geografiche quindi ti fa sognare in qualche modo sono prodotti comunque per le donne, dedicate alle donne, donne avventurose, grintose, pronte a qualsiasi esperienza Ciao Allora mi chiamo Lilian, sono nata a Roma ma ho vissuto in Africa con mia nonna Santomè Alviero Martini prima classe accompagna le spedizioni di donna avventura da 20 anni direi che è una marca molto interessante soprattutto per questa relazione tra la spedizione e l'attraversare il mondo la mappa geografata quindi ragazzi utilizzate Alviero Martini comprate le borse che accompagneranno i vostri viaggi e anche la vostra quotidianità Ciao sono Piero, 21 anni, viva Catania e nella vita sono una semplice studentessa universitaria so bene che donna avventura non è una vacanza straordinaria né tantomeno si può descrivere come una semplice esperienza lavorativa Ciao a tutti, sono Daniela, questo compagno di viaggio per ogni occasione elegante, sportivo, cosa dire di più? Prima classe Quando vediamo una mappa noi pensiamo ad Alviero Martini quindi per chiunque abbia il piacere di viaggiare, di andare e scoprire posti nuovi niente di più ideale che viaggiare con Alviero Martini prima classe Ha una linea perfetta, va indossata su tutti e che dire, prima classe è un mondo a portata di mano Grazie a tutti